e perché dovrei fidarmi di te perché sono una donna te la do dai sei fortunata potere della figara e vedi già la sex communication ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico ma stai attenta in quel posto ci sono spesso guai ok va bene allora io dovendo e dopo te lo tocco sono il live non posso però d'accordo fatto forza non voglio restare qui a lui è mica un solo dai a fare in con una prezzi niente l'ho aperta ma sorrindo eri tu che mi seguivi allora dovevo tenermi a distanza qui non si può rischiare stai calmo spiegami cosa succede con con calma c'è un alieno per caso è un gasto ma se se tu corre oddio ma ci sono altre persone però chi siete voi ma che cazzo se tempo da perdere un cazzo dietro non ci serve il loro aiuto non dirgli niente ho fatto funzionare l'ascensore mi dispiace ma è lei gianna non sono lì l'hai fatto funzionare posso venire con voi nell'ascensore non voglio starci con il pelato no il pelato no che cosa voleva dire perché sei stato così aggressivo sono tutti terrorizzati ognuno pensa a sé è più sicuro così cosa è pazzo schizofrenico è perché secondo te come sono arrivato nello spazio perdonami cos'è aspetta il taglio un periodo la terra è anche al capo come dai ripristina la corrente dai ma è senza corrente non si apre così si apre grazie io dovremmo cercare una via d'uscita scusa ci sono via d'uscita almeno qui saremo al sicuro per quanto tempo e se vengono a cercarci piantiamo una pallotta la in testa alien isolation brother grazie dei bit ma non si sentono i bit che dovremmo girarmi perché già io già mi stai a fanno ammazzare scusa axel veloce sblocca tutto che qualsiasi cosa premi tu funziona io invece te la raga orrei bravo bravo ti entro in anche a fondo amami e tu vivi qui che ci posso fare il mio maggiordomo in ferie prendi quello che ti serve e prende per il culo questo che capiterà se si è ora prendi quello che vuoi qui per una settimana allora aspetta vediamo cosa c'è immagino batterie per torcia si ma non ho la torcia non c'è questo posto resta al buio molto spesso un razzo con te dove 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 torcia dovete non restare senza batterie dove minchia l'hai vista la torcia speri non la vedo questa è la torcia ma che cazzo di torce e attenta come la usi però non dobbiamo farci vedere andiamo perché come se perché come dovrei usarla la torcia scusa a vero se uso la torcia mi schiavano fammi salvare fammi salvare controllo il condotto dovrebbe esserci un altro qui intorno l'ho segnato per non dimenticarmene non è che c'è bisogno di segnarlo c'è davanti agli occhi coglioni che ne dice di dare un'occhiata ma è qua hanno queste chiuso hai ragione scusa allora di qua penso un condotto trovato questo qua sono come romperli coglioni alla ricerca della torcia in casa intelligentissimo risparmiamo le batterie della torcia dato che ha batterie stiamo giocando ad incubo raga tra l'altro quindi qua ci inculano malissimo dobbiamo giocarcela proprio atticamente bene arriva le sassettate devi cacare che tutti si spostano qui solo chi vuole restare vivo principessa torres allora è la parola bene se zitta ho sentito qualcosa non ho parlato mobili mi ricama scassati se qua accendo la luce la prendo in culo come non lo facciamo in nervosire ma chi parleranno di grazie però ma sei passato qualcosa chiuso ragazzi il primo bug attenzione si è fatto male oh minchia sono qui pelato del cazzo vorrei salvare da una parte vabbè si salviamo almeno siamo sempre più vicini eventualmente che succede vado ho capito il portello in fondo mica ma io mi sono alzato tutto sarmaglio perco un modo per distrare i saccheggiatori ma io ho un razzo spegni il generatore perché ti sei servito per te che cazzo faccio oddio il generatore è morto mica mi vanno a cercare qua scappa ma io mi nascondo qua ragazzi se accendo il razzo l'aprendo in culo malissimo ragazzi se sbaglio e premo x qua non c'è un cazzo l'interruttore di emergenza dai non è un topo non sono io non è come sembra io spegni spegni tutto così loro vengono lì io passo dal condotto ed esco da lì tattiche esci fuori e non sembra rotto e come lo sai se fosse fuso ci sarebbe veloce ma mamma mia scappa con axel ma dov'è axel axel mamma mia mamma mia il nostro eroe quattro convinto e qua di qua di qua da questa parte vai 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 sono già qua qua sono segui tu bene cazzo guardi vai vieni t'abbagaste si è rotto axel poco più avanti questo è un terminale potremmo scoprire delle informazioni tattiche vediamo cosa c'è scritto personale ho finalmente ho trovato quello che cercavo il capo non se ne accorgerà si chiunque raccogli quel senere inventario aspirine cipu scatola cereali acqua dentifricio sigarette e carta igienica e quello mi servirebbe 26 rotoli di carta igienica raga due kit medici latte in polvere stiamo finendo le munizioni stiamo finendo le munizioni un po di questa tu vai a quella ok vado dall'altro ok vado dall'altro vai vai ho capito tutto vai axel noi due non ci arrendiamo qua qua c'è un condo ah no è chiuso ok vai axel e previ ah devo fare a ok dietro axel axel ti in culo porca puttana arrivo ehi arama lascia stare il mio uomo minchia il sangue freddo raga andiamo gli altri stanno arrivando dobbiamo andare ora ehi bastardi no non sono io bastardo è lui e non ha armi questo qui no occhio axel come cazzo fai ad essere così veloce scappa con axel veloce veloce l'hai ucciso perché stava per uccidere me mi hai salvato la vita è questione di sopravvivenza lo capisci ti sta baciando ti sta baciando hai sentito cos'è sto schifo c'è qualcosa axel ma che roba è sperma penso è un gattino penso sia un gattino devo proseguire non aver paura non aver paura abbiamo il piede di porco con noi noi da qui che siamo venuti quindi io devo andare da qua ma la mappa non esiste praticamente tanto vale non averla io dovrei salvare c'è il coso per salvare non vedo un cazzo non si apre chiama la navetta vai sta succedendo veloce 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 perché c'è stata stanza così ma vuole arrivare sta navetta minchia quanto tempo ci sta è arrivata dai 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 che qua oh mappa mi sono cacato raga ma c'è ma che colpa mia ci stava del tempo per arrivare nooo o io in ogni caso la chiamo subito no apriti porca puttana adeos madonna mia l'ansia ragazzi veniva ho attivato pure il razzo per sbaglio meno male che non c'era è il coso per salvare tieni premuto per nasconderti si 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 godo salva tutto va bene qual è l'obiettivo che ma non ho un cazzo ma c'è l'obiettivo ah raggiungi la six secondo axel la six si trova nella torre sin che trova un modo per arrivarci si vede non ho manco la mappa no no trova sto cazzo andiamo di qua vediamo cosa c'è oh ma come cazzo mi hai visto minchia ma è una pro player non si alza più il personaggio perchè sei abbassato vai a fare in culo non ho manco un'arma come cazzo lo faccio ah ma posso colpire porca puttana potevo colpire si ma io dico se loro sparano non attirano creature indesiderate porca madonna mi ha molesto io provo ad essere mi sa che qua sopra ragazzi cos'è sto coso oddio ma non fare così per te il tema di sicurezza dell'ascensore i cercoiti sono distrutti in un program andavo solo a trovare una nuova cellula dati una nuova cellula dati giustamente dove minchia la trovo scusa minchia no ci sono come troviamo no 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 buono buon uomo di qua era il piano di sotto eh vabbè ma lo si è bottana ah ma c'è il condotto qua ecco cos'era il rumore vediamo se magari tramite i condotti riusciamo a ma peccato che non c'è una mappa sono di nuovo qua no mi ha visto? io vorrei provare a farli in teoria minchia esplodo male se no minchia mi ha visto mi ha visto porca puttana dai eh beh sì vabbè minchia ma ciao vabbè provo ad andare dall'altro lato minchia sono morto posso solo sperare che va a destra se va a destra forse è la prima kill la stazione sembra un cimitero eh vai più veloce veloce ricerca ma prendi la pistola tuttana di merda dai raga ma è impossibile ma se mi nascondo qua muoio? ok ragazzi è l'ultimo tentativo se muoio ci salutiamo comunque che è già anche tardi però lo continuiamo ogni giorno questo dai non mi puoi vedere qua sono piccola piccola in un angolo vedi qualcosa? luca go NO il quarto non l'avevo mai visto ti prego zig zag zig zag apriti ma vai a fare in culo ma guarda non ti insulto l'aiascetata non tolite non tolite